Non abbiamo una data di ripartenza, siamo fermi da un anno, abbiamo cancellato prenotazioni da un anno e mezzo, quindi novembre 2019. Da novembre 2019 in poi siamo completamente fermi, abbiamo lavorato solo luglio 2020, con cali del luglio 2020 del 60%, in generale in totale del 90%. Livello di ristori, siamo arrivati a luglio 2020, quindi ci hanno pagato fino a luglio 2020, non a tutte le agenzie, quindi ancora stiamo aspettando da agosto in poi dei ristori perché siamo completamente fermi. È molto difficile, è normale che c'è un ridimensionamento della forza lavoro perché al momento tutti gli impiegati sono in cassa integrazione e sperando che questa situazione migliori presto. Purtroppo considerate un'azienda di un milione di euro, di sette dipendenti che si ferma, si blocca completamente con tutte le spese vive e attive, naturalmente fortunatamente i dipendenti in questo momento sono in cassa integrazione, sperando di rintegrarli mano a mano che l'attività riprende. 2021 sarà difficilissimo come il 2020, noi vogliamo comunque tranquillizzare i nostri clienti dicendo che comunque l'estate in Italia ce l'aspettiamo, la Pasqua no, ma l'estate comunque in Italia e in alcune parti d'Europa come Mediterraneo si potrà fare, quindi siamo già in agenzia, su appuntamento e aspettiamo comunque i clienti per prenotare le vacanze già ad ottimi prezzi dall'estate in poi, da giugno in poi. Questa difficoltà la vostra agenzia di viaggio l'aveva manifestata qualche settimana fa, qualche mese fa anche attraverso dei cartelli che erano stati appesi sulle vostre vetrine? Assolutamente sì, i cartelli che avevamo appeso erano di protesta verso le istituzioni perché fino a fine dicembre non avevamo avuto nessun ristoro, a fine dicembre hanno iniziato comunque a darci dei ristori, le nostre attività, le agenzie viaggi sono in assoluto le più colpite da questa crisi, quindi siamo in assoluto quelle che resteranno ferme di più e che sono ferme da più tempo. Non sarebbe bello poter vedere le persone venire in agenzia, avere un consulente di viaggio personale perché andare in agenzia vuol dire avere un consulente di viaggio personale, avere i prezzi comunque validissimi a livelli di internet ma con un consulente personale con dei consigli validi per il viaggio, quindi io invito tutti a venire in agenzia per aiutare le agenzie di viaggio, per aiutare comunque delle famiglie della provincia, della città e vedere e provare quanto figo è un'agenzia di viaggio.